salve ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video in cui vi spiegherò su come non fallaggare minecraft questo metodo vale per tutte le patch infatti vi spiego subito questo metodo consiste pratica vi spiego semplicemente se non ve lo riesco a spiegare i due progetti e allora il computer dual core cioè due processori utilizza soltanto un processore il quad core quello che ha quattro processori ne utilizza solo tre ci siamo per i tre core non so se ne utilizza due o se ne utilizza tre anche per quelli sei in teoria dovrebbero usare cinque o quattro ma non sono sicuro comunque oggi vi spiegherò come fare questo metodo cioè vi spiego semplicemente minecraft vale a gare quando oltre alla ram che bassa cioè quando la ram è alta cioè che quasi al più del 50 per cento del suo utilizzo minecraft vi diminuisce di 20 o 30 fps ma la causa più eccitante del lag e quando il cp cpu si potrebbe definire del vostro computer raggiunge 100 per cento io ragazzi che ho un dual core va a finire che come dei spiegati in precedenza il computer usa solo un core quindi quando un processore unico arriva al cento per cento scusate ma aspettate un processore arriva al cento per cento minecraft va a gare bene ma se io scusa voglio usare due processori come faccio che questo è il metodo che oggi vi voglio spiegare ecco ragazzi oggi ve lo spiegherò semplicemente voi dovrete scrivere su start perché windows 7 ho visto oppure su esegui chi ha windows xp faccio io prima scrive segui scriviamo questo file qui guardate lo scrivo pure in grande gli orbi speriamo ragazzi che questo video abbia molte visualizzazioni e che molta gente lo guardi allora lo scrivo in 3 48 ms ms config che non salvare elimina perché mi sta antipatico bene ragazzi lo scriviamo ms config fate ok vi si aprirà questa schermata cliccate continua aspettate vedete vi si apre questa schermata qui dopo potrete disabilitare servica e scusate qui potete disabilitare i servizi vedete questi qui solo che se volete disabilitare dovete nascondere quella di windows e disabilitare quelle che volete ma io non ve lo consiglio stessa cosa per vale quelli di avvio qui potrete velocizzare il computer comunque ragazzi non è questo quello che vi voglio insegnare andate su opzioni di avvio scrivate qui vedete c'è il computer che vi dice sistema operativo corrente scrivete qui opzioni avanzate viene fuori numero di processori prima avevo ero così vedete uno ed ero così io ho cliccato sul numero di processori e da uno ho passato a due dopo lasciate così come oppure qui potete aumentare ma non sono sicuro fate ok dopo fate applica ok invece di riavviare il computer riavviate il computer dopo scopete però prima di riavviarlo finite di guardare il video perché dopo non saprete come fare comunque ok fate così fate applica dopo il computer userà due processori ok ma buttate chiedendo adesso vi starete facendo questa domanda e adesso come si fa a sapere che la velocità aumenta beh ragazzi semplicemente guardate vi faccio un esempio io adesso allora c'è per adesso per fare in modo che il computer utilizza due processori perché adesso ne utilizza ancora uno anche se impostato su due per fare in modo che il computer utilizza due processori io adesso non lo anche facendo dovete fare tasto destro oppure ctl le alte contro lo cance quant'altro che è comunque gestione attività cliccate anche sotto fate tasto destro vedete vedete aspettate chiudo se fermate il video subito perché è a 69 79 per cento in utilizzo del cp poi improvvisamente diminuisce a 13 o 23 per cento voi vi starete chiedendo come mai questa diminuzione ecco perché aprendo vi gesto in attività e non chiudendo la mai il computer utilizza due processori invece che uno e te sta utilizzando due o mamma cosa ho fatto e te così ne utilizza due clicco qui vedete così ne utilizza due al posto di uno e quindi il computer lagga di meno e non lo aggando il computer e avendo due processori a disponibilità oltre che minecraft viva ad aumentare di 23 fps come massimo è gli fps vi saranno costanti cioè faccio un esempio il computer netbook appena giocato a minecraft se usate tutti i metodi video che ho fatto sono 4 5 quelli che sono 6 6 7 io ce l'ho un computer così e sono uscito da un fps a farlo mandare a 15 come massimo ma dopo poco tempo ragazzi che ci giocavo cosa è successo gli fps sono diminuiti drasticamente e sono arrivati a 8 dove da prima che lo giocavo e ha incominciato a laggare bene facendo questo metodo vale per il netbook che sono dual core quadro core comunque aumentando sempre di un processore aumentate la velocità del computer fate così aprite vi gesto un'attività e minecraft non vi lagherà più perché avendo due due processori minecraft non deve reggere un solo processore che il computer in pratica sul suo quel processore dopo il computer deve utilizzare tutte le sue funzionalità e quindi non riesce a leggere mai non riesce a reggere minecraft e quindi il gioco vale a gare quindi con questo metodo ci sarà un processore in più per chi è un dual core un tricore e sempre uno in più perché un quadricore ma non sono sicuro sul tricore e il quincore si ai core ma lasciamo perdere su quelli sono sicuro sul dual core quadricore di questa roba quindi per il dual core minecraft vi andrà meglio del 50 per cento per il trail core per il quadricore del 25 per cento quindi ragazzi questo era il modo dette adesso c'è qui che è bassissimo 21 per cento appena lo chiuso va andrà al 70 per cento vedete lo apro rapidamente 72 per cento diminuisce 14 per cento perché come ve l'ho spiegato prima succede questo fatto vedete questo è il mio metodo di oggi funzionerà per tenervi alti gli fps e non far laggare minecraft ricordatevi sempre di aprire gestione attività e il processo qui basta farlo solo una volta qui ragazzi da fulminosch e tutto cioè da mister fulmin99 mi raccomando iscrivetevi commentate e alla prossima ciao ciao